Ciao a tutti, come annunciato sulla pagina Plasma, quest'anno cercheremo di fare dei piccoli video per raccontarvi la nostra storia. Guardatelo fino alla fine perché ci sarà una piccola sorpresa. Quello che ho alle mie spalle è il nostro muro dei box con le scatole dei test che sono stati fatti in questi quattro anni in Plasma. Ogni settimana ve ne racconterò uno, qui troverete molti dei materiali che avete nella vostra azienda e se avete qualche richiesta particolare non esiste a chiederci. Dato che ho notato che molti guardano i nostri video su Linkedin ho deciso quest'anno di fare una cosa un po' particolare e alla fine di ogni presentazione ci sarà una piccola frase emblematica di quello che è per noi il riciclo. Ho cercato di utilizzare l'intelligenza artificiale per unire frasi magari di poeti o intellettuali italiani legate al mondo della plastica e la prima che ne uscita è questa. Riciclare con passione, trasformare con eleganza come vittoria sulla plastica del passato. Gabriele Bernunzi Grazie a tutti. Grazie.